E qui con Gianmarco Puntelli abbiamo Carlo Motta che è la responsabile editoriale del CAM, il catalogo di arte moderna. Questo catalogo di arte moderna che stiamo conoscendo in maniera vivida attraverso i quadri, i colori, gli artisti, queste diapositive semoventi come le chiamo io che Gianmarco Puntelli ci presenta. Ora lei non ha bisogno di presentazioni perché ci ha parlato perfettamente di questo catalogo ma anche delle difficoltà di reperimento che a volte si hanno nelle librerie del medesimo. Certamente, una delle cose che accadono è che spesso i potenziali lettori si recano alle librerie e non trovano il catalogo. In realtà avviene che i librai non lo prenotano, ricordo che il catalogo ha un prezzo di 98 euro abbastanza alto, in momento di crisi magari il libraio non si sente di prenotarlo. Ma in realtà il libraio sa e deve dire all'utente che il libraio è a disposizione e che glielo può procurare. Quindi il catalogo dell'arte moderna è in qualche modo comunicato a un migliaio di librerie ed è il libraio tenuto a dire che lo può fornire all'utente, a chi va a chiederlo in libreria. Il catalogo di arte moderna rappresenta e raffigura un po' tutte queste opere che abbiamo visto qui all'interno di questa mostra che si chiama L'Eternità nell'Arte, all'interno della Basilica dei Santissimi Quattro Coronati. Un messaggio a coloro che magari si approcciano all'arte semplicemente per trascorrere il weekend, devo dire il turismo del fine settimana che va a visitare le pinacoteche e le mostre. Perché dovrebbero comprare o richiedere questo CAM? Beh, come abbiamo detto anche durante la presentazione, il catalogo è un po' la vetrina, la fotografia dell'arte contemporanea italiana soprattutto. E attraverso il catalogo il lettore può conoscere davvero il panorama dell'arte contemporanea e in qualche modo, conoscendo meglio gli artisti, può approcciare anche al museo. Può, che ne so, attraverso il catalogo riconoscere degli artisti ospitati al Museo del Novecento piuttosto che in altri musei italiani. Quindi c'è una stretta correlazione tra il catalogo, la presenza di artisti anche importanti nel catalogo e quello che in qualche modo il visitatore può trovare poi nel museo. Ecco, parlando invece di artisti, per rientrare nel catalogo, quali caratteristiche bisogna avere? Beh, le caratteristiche non le decido certo io che sono il responsabile, ma le decide un comitato di cui fa parte appunto Gianmarco Puntelli. E le caratteristiche sono legate un po' al percorso artistico e al curriculum dell'artista. Normalmente il percorso di un artista è costruito attraverso esposizioni di un certo livello, istituzionali, anche istituzionali, attraverso una bibliografia che l'artista deve avere, attraverso ovviamente e soprattutto la qualità dell'opera. Questo lo dico perché c'è molta gente che purtroppo dell'arte Puntelli ce lo insegna, si improvvisa, quindi Puntelli bisogna avere, come dice il nostro direttore editoriale, un background, ma soprattutto qualità, talento. L'arte è un valore non solo da un punto di vista artistico e quindi poi diventa storicizzata, ma anche e soprattutto come trader nell'arte, come trading dell'arte, come investimento. E quindi di conseguenza bisogna proporre spesso quello che è un valore. All'interno del catalogo dell'arte moderna ci sono le quotazioni che il mercato attuale propone degli artisti e propone per gli artisti e per le loro opere, ma soprattutto abbiamo davvero con il CAM il catalogo più autorevole, la pubblicazione italiana più autorevole che ormai da anni fa la recensione, cataloga, spiega e informa soprattutto gli operatori, gli amanti dell'arte, i musei e quant'altro, degli artisti contemporanei e appunto moderni che hanno un determinato valore, che sono presenti, la loro attività e quant'altro. Da parte mia ringrazio in maniera assoluta Carlo Motta di questa anteprima del CAM. Noi abbiamo presentato il CAM del 2017, quello appena fresco di stampa, che sta raggiungendo gli artisti in questi giorni e che sta andando nelle librerie in questi giorni. Non era ad Arte Padova che è stata ieri, ma l'ha voluto riservare per questa presentazione. D'altronde una mostra di fine giubileo ha delle caratteristici di unicità e di straordinarietà, esattamente come la location che ci ospita, che è la chiesa dei Santi Quattro Coronati. Questa mostra è nata con dei presupposti straordinari, con una frequentazione straordinaria quotidiana e con grandissime prospettive anche di divulgazione attraverso i media. Questo è un fatto molto buono che ci prepara poi al 18 di dicembre a poter raccogliere invece quelle che sono delle offerte di un'asta che sarà fatta il 18 di dicembre proprio all'interno della Basilica dei Santi Quattro Coronati un'asta delle opere degli artisti partecipanti. E quindi un atto di grande generosità degli artisti, un atto speriamo di grande generosità da parte di chi ha visto, di chi ha seguito, di chi verrà a vedere questa mostra perché per Natale potrà portarsi un pezzo di eternità rappresentato dagli artisti in una mostra senza precedenti che è nata grazie a un gioco di squadra. Da una parte la parte editoriale, con il catalogo dell'editoriale Giorgio Mondadori di cui ringrazio appunto la dottoressa Mari, di cui ringrazio il dottor Motta e dall'altra parte con vesti l'arte, quindi con Marco Sette, con Marco Nirollo, con Crocito, quindi con vesti l'arte che sono il brand più autorevole invece in quello che sono le confezioni ispirate all'arte. Loro stanno andando in Corea con Baschià, ho coinvolto in particolare Marco Sette che frequenta la mostra più di quello che frequento io e da cristiano cattolico ha voluto condividere questa missione con me ed è il nostro partner ufficiale. Ci prepariamo a vedere al meglio, a divulgare al meglio questa mostra, soprattutto ci prepariamo all'asta del 18 perché vogliamo che al di là delle bellissime emozioni rimanga qualcosa di concreto in un'eternità che viviamo nella quotidianità. Bene, lei devo dire che scalza l'eternità, caro Puntelli, perché riesce a mediare quello che è il discorso imprenditoriale attuale con la critica d'arte e lo miscele in maniera sapiente ed efficace che arriva a tutti. Ci ha parlato del giubileo che si chiude, il giubileo straordinario della misericordia, ora speriamo di non aspettare il giubileo del 2025 per vedere un'altra mostra qui in queste realtà storiche, architettoniche ed ecclesiali di Roma. Grazie a Gianmarco Puntelli ma grazie soprattutto a Carlo Motta, direttore editoriale del catalogo di Arte Moderna.